Si chiama Naked Dating ed è uno show televisivo molto divertente, infatti lo scopo del programma è proprio quello di creare, di formare delle coppie, i concorrenti però sono tre. E in una puntata recente, quindi di qualche giorno fa, la bellissima Shara, una bellissima donna, doveva scegliere tra due pretendenti uomini, quindi di genere maschile. Entrambe, quindi sia i due uomini, si sono spogliati nudi, hanno mostrato le parti intime prima di vedere la bella Sheva completamente nuda, quando anche la ragazza è tolta i vestiti. Uno dei due si è però visibilmente eccitato e tante risate che si sono appalesate all'interno dello studio televisivo. Tutte e due hanno comunque omaggiato la bellezza della ragazza, davvero molto sexy, facendo sapere che non erano mai stati con una bellezza di questo tipo. La ragazza però non era la stessa idea, infatti a uno di due avrebbe detto in modo piuttosto a lei si esplicitò. Perché il problema è così piccolo, punto interrogativo, ovviamente le risate ci sono state e l'imbarazzo è purtroppo piombato all'interno dello studio televisivo. Grazie, un saluto e a presto.